Buongiorno, bentornati e bentornate nel mio canale. Oggi parleremo di un idolo italiano, secondo me uno dei fumetti più belli in assoluto italiani, Diabolic, che ha bisogno di, secondo me, poche presentazioni. Però c'è subito da dirvi una cosa, che l'ho rivalutato tantissimo, perché io quando ero piccola l'ho sempre visto solo come un ladro abilissimo, ma diciamo che lo paragonavo quasi tipo un pochino a Lupin e questo so che farà storcere il naso ai tanti appassionati, però appunto volevo dirvi che grazie a questo lavoro che mi è stato commissionato ho potuto rileggere tanti albi, guardare anche il film, tra l'altro che a me è piaciuto veramente tanto, con attori che amo, ma a me è piaciuto proprio tutto di quel film, poi magari ne parleremo anche nei commenti. e quindi ho potuto, diciamo, vedere questo suo lato molto, molto, direi quasi cattivo, insomma spietato, sicuramente spietato pur di arrivare chiaramente a quelli che erano i suoi scopi. Questo mi ha lasciato un pochino, diciamo, senza parole, perché avevo invece un ricordo un po' appunto diverso di Diabolic. Allora, quello che vedete qui è l'immagine, cioè una rappresentazione di quello che può essere il suo covo, il suo studio. Chiaramente ho concordato le cose da realizzare con il cliente che me l'ha commissionato, poi ho provato a fare del mio meglio, la parte sicuramente più difficile è stata quella di rappresentare le maschere, le tante maschere che Diabolic sapeva fare, che poi chiaramente utilizzava nei suoi colpi, o anche solo, diciamo, per indagare, comunque per nascondersi, per catturare informazioni. Quindi era una parte che non poteva mancare, ed io ho messo, a parte chiaramente anche la sua maschera, ho messo sicuramente qualcuno di voi, l'avrà riconosciuto, anche il volto di Dylan Doggo. Questo è un omaggio che ho voluto fare a un altro fumetto italiano che amo tantissimo, ma che sapete che lo amo tantissimo. Poi ho pensato anche sul suggerimento, chiaramente, di Ciro, che è il ragazzo a cui andrà questo diorama, di metterci una cassaforte. Allora, la cassaforte tra l'altro si apre anche, adesso vorrei far cadere Diabolic, ma ecco. Poi dopo Ciro vedrà se metterla, se lasciarla aperta, se metterci qualcosa dentro, non lo so, o lasciarla chiusa. Comunque il nostro Diabolic sicuramente si esercitava. E vedete anche, diciamo, i vari dettagli che ho voluto aggiungere, appunto, disegni, schemi, schemi di banche, di cavo, ecco, perché comunque questo fa Diabolic. E quindi volevo, diciamo, senza, cioè, dare l'impronta giusta, senza poi però esagerare, perché comunque rimane sempre molto pulito, come covo, lui è molto ordinato, molto meticoloso, quindi non volevo mettere troppe cose. E ho fatto anche delle piccole cartelline, perché sapete chiaramente che lui aveva tutto, diciamo, uno schedario delle persone che poi sarebbe andato ad interpretare. E ho messo anche qui degli omaggi al film. Quindi ho messo alcune foto degli attori che si vedono nel film. Poi Ciro vedrà se toglierle o meno, ma diciamo che era il mio omaggio al film che mi è piaciuto tantissimo. Ho cercato di ricreare alcuni dei suoi oggetti, come vedete qui, e alcune cose imprescindibili, il computer un po' vintage, la sedia. Ecco, questo, diciamo, non è stato un lavoro semplice, anche perché non si trovano tante immagini di Diabolic nel suo covo. E quindi ho lavorato, ma questo è un po', diciamo, anche normale per il tipo di lavoro che faccio, di fantasia e sempre concorde chiaramente con il cliente. La statuina, che secondo me è veramente fatta bene, è una statuina di Hachette, questa è la scatola. Questa è mia, ma anche il cliente ha la stessa, io ho solo tolto Diabolic dalla base. Adesso vi faccio vedere perché per chi ama Diabolic anche solo avere la statuina è bella. Vedete, i piedi poggiavano qui, io l'ho staccati, bene, cioè chiaramente fare un pochino di attenzione. E' un'edizione Hachette, poi credo che la possiate trovare un po' ovunque, credo, su ebay o da qualche altra parte. Statuina che peraltro è bellissima perché lui si sta per mascherare o smascherare, dipende da come vedete voi le cose. E quindi anche questa prospettiva, poi la vedrete meglio nelle foto, che ha fatto Chiara, naturalmente, la prospettiva di lui che si specchia, appunto, secondo me me lo sono immaginato, diciamo, proprio prima di lasciare il suo covo. Sono stata veramente tanto contenta perché è un personaggio, secondo me, straffascinante, un po' sottovalutato soprattutto nel 2022. Tra l'altro a breve c'è il suo anniversario e quindi ci saranno delle bellissime uscite in edicolo a letto, quindi per gli appassionati lo dico. E niente, vi do veramente il consiglio di recuperare questo fumetto anche ai giovani che so che sono iscritti al mio canale perché è veramente affascinante, geniale, veramente in tantissimi tratti. Manca, manca la sua bellissima spalla, che è una cosa che però spero di poter far presto, cioè un diorama con lui ed è vacante, chiaramente la bellissima, credo senza ombra di dubbio, la donna più bella nei fumetti. Tex ogni tanto sforna qualche bellezza, ma imparagonabile, secondo me, a quella che è stata evacante. I disegnatori l'hanno, secondo me, resa benissimo. Scusate. E niente, quindi io spero di lavorare ancora per Diavolic perché mi è veramente piaciuto. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate nei commenti e vi ringrazio per essere stati con me fino adesso. Ciao!